E' vero, ce li prendiamo volentieri questi applausi, però dentro di me c'è molto rammarico, c'è molto dispiacere perché avrei voluto terminare per il gruppo e per i tifosi in modo particolare, avrei voluto uscire con un risultato almeno positivo. Se è vero che non c'erano grandi obiettivi di classifica, però in me e nel mio transfer non mancavano certo le forti motivazioni e che in campo non siano stati bravissimi a livello tattico a leggere, soprattutto nel primo tempo quando dovevano giocare meglio al contro fuorigioco, era una cosa che avevamo studiato. Siamo andati troppe volte in fuorigioco, quelle volte che invece siamo riusciti a innescare, non tantissime volte, ma abbiamo avuto occasioni e spazi importantissimi. L'essere in vantaggio a Perugia lo devi capitalizzare meglio contro una squadra a cui vanno fatti complimenti e per il campionato e per il ritmo tecnico che ha saputo disporre e imporre nel primo tempo. Però sullo 0-1 l'applauso di Ricci sul pareggio bisogna farlo, ma il gol dal 2-1 è evitabile e quello sarebbe stato comunque un altro secondo tempo e in più i due cambi hanno un po' inciso nei nostri piani. Poi sul 3-1 è evitabile, la squadra non ha perso equilibrio, non ha perso carattere, non ha perso identità tattica e sul 3-2 io credo che poteva pervenire meritatamente al pareggio perché quando il migliore in campo degli avversari è il portiere, la dice lunga, soprattutto sul doppio intervento di Augere e anche Donnarumma due volte in area. Per quello che riguarda i cambi, nella prima mezz'ora aver fatto già due cambi a livello atletico e poi anche a livello tattico qualcosa ha inciso, però fa parte del gioco. Ripeto, la mia determinazione e volontà era stasera di uscire con un risultato positivo contro una squadra molto forte come il Perugia. Per quello che riguarda il secondo aspetto della domanda, ho sempre detto dopo Perugia ci sarebbero stati dei confronti sereni, tranquilli. Per poter approcciare e confrontarsi su quello che è la base di una squadra che ha valori tecnici, che ha valori morali, dove c'è una società forte, una tifoseria molto passionale, molto calorosa come Salerno. Sentite a Salerno avanti con le domande, mi piace giustamente, no è un modo di dire, vedo che mi guardano. Io ho sempre detto che non sono mai andato in cerca di conferme, quindi non voglio essere travisato. Io ho un rapporto forte con questa società, ho avuto una crescita insieme tecnica e soprattutto d'entusiasmo in questo posto e da qui ci sarà un confronto su quelle che saranno le tematiche tecniche e organizzative con delle basi già importanti. La mia volontà è affrontarle in maniera assolutamente propositiva. No, date in questo momento non ce ne sono, perché io devo rientrare per i miei problemi personali, quindi credo che la prossima settimana poi con tranquillità faremo le nostre chiacchierate. Perché noi abbiamo determinate caratteristiche dove possiamo giocare da destra a sinistra e da sinistra a destra con tecniche e abilità e quella volta che abbiamo affondato una volta con Rosino ma soprattutto con Donnarumma che non è arrivato alla conclusione una volta, l'altra volta non so se c'era o non c'era fallo, è una nostra prerogativa ed è un nostro modo di giocare. Coda è andato troppe volte in fuorigioco il primo tempo, non c'è andato il secondo tempo che doveva giocare o sulle curve in smarcamento oppure di impatto per portare i due centrali e stare sulla seconda palla o allungarla. Quindi è una nostra strategia al di là delle caratteristiche del Perugia, anche se il Perugia gioca un calcio molto aggressivo, molto alto e di conseguenza puoi avere se non 50-40 metri di ripartenza e questo l'avevamo studiato. Il pronostico è difficile farlo in questo momento anche se dico che la caratteristica psicofisica sarà una delle parole più importanti, bisogna stare bene a livello fisico e bisogna avere forti motivazioni senza grandi pressioni. Credo che il Perugia ci sia arrivato molto bene, il Benevento è in ripresa, però diventa difficile fare un pronostico in questo momento vista l'imprevedibilità e le variabili che ha dimostrato questo campionato. Frosinone ho visto una squadra molto forte nei singoli, molto quadrata anche in ripresa fisica e il Perugia ci è arrivato attraverso una cavalcata importante con un girone di ritorno che se non sbaglio sono 35 punti e quindi con un'ottima condizione di salute. Però gli ultimi 30 metri, quindi nelle abilità dei singoli e la condizione fisica e le forti motivazioni saranno quelle che sposteranno gli equilibri in partite, credo, avvincenti.